Al via oggi all'Aquila l'edizione 2024 di Restart Up, il campus di incubazione e accelerazione per le giovani imprese del territorio appeninico italiano, promosso e realizzato dalla Fondazione Edoardo Garrone in collaborazione con la Fondazione SNAM e ITS, capofila di un partenariato composto anche dalla Fondazione Cassa di Risparmio della provincia dell'Aquila. Glamping in strutture originali come le cupole geodetiche, cooperative per la gestione di rifugio appeninici, strutture ricettive e network per la promozione della vita sostenibile nelle aree montane e rurali. Queste alcune delle idee di impresa dei giovani aspiranti imprenditori che partecipano al campus residenziale gratuito Restart Up. La Fondazione Garrone è da dieci anni che porta avanti il progetto Appennino e questi campus residenziali in cui raccogliamo quest'anno sono 9 ragazzi, da 9 a 15 diciamo, e devo dire in dieci anni abbiamo formato più di 150 ragazzi e dei 150 ragazzi 61 imprese sono partite nell'Appennino italiano. Credo sia un grossissimo risultato perché avere più o meno il 40% di successo su delle start-up è un ottimo risultato, vuol dire che il modello funziona, i partner che raccogliamo e che seguono il nostro progetto sono partner che si danno da fare ma soprattutto i giovani hanno voglia di fare impresa appenninica. La Fondazione è sempre vicina all'imprenditoria giovanile e non può essere diversamente. Anche quest'anno è vicina a questo importante progetto che viene dalla Fondazione Garrone, dalla presenza della SNAM, della ERG e quindi è un progetto completo che interessa i giovani. Sono stati individuati dai giovani che non sono soltanto abruzzesi, di Latina, dell'Emilia Romagna e quindi una presenza che dà la possibilità ai giorni di accostare progetti innovativi che sono quelli che vanno verso l'imprenditoria futura. E noi con la nostra presenza, con la nostra fondazione saremo sempre vicini a queste attività e a queste iniziative.